...di ragazzi, dal Circo Musica e Cultura, dalla famiglia Impastato e dal centro Impastato di Umberto Santino. Sono qui perché noi dobbiamo, tutti questi che siamo qua, prenderci questo impegno oggi. Noi rifacciamo sempre la nostra esperienza, quella che è stato quello che abbiamo vissuto noi. Noi abbiamo vissuto un ambiente ostile, certe volte abbiamo fatto battaglie solitarie contro la mafia, che significa il controllo sul territorio della mafia. Quando Peppino Impastato è stato fatto saltare in aria, sui binari della Palermo-Trapani, la prima sentenza è stata quella, un terrorista che voleva, quando facevamo le trasmissioni a Radio Out, quando volevamo parlare alle persone, ai braccianti e agli agricoltori, lui faceva sempre questo accostamento con Danilo Dolci, che era stato arrestato per questo. È stato processato per questo, è condannato. Ecco, là si processava il diritto al lavoro, qua si sta processando il diritto alla solidarietà. Allora noi tutti dobbiamo contribuire perché questo non è una benda. Grazie. Grazie a te Carlo.